ciao a tutte e a tutti e bentornati o ben ritrovati sul mio canale io sono lucia e oggi vi parlerò delle letture che mi hanno accompagnato nel mese di maggio che dire maggio è stato un mese piuttosto altalenande ho iniziato infatti con una delusione ma di quelle stratosferiche ho proseguito con un libro che è stata una mezza delusione ho rischiato il blocco del lettore ma per fortuna e mio soccorso sono arrivati murakami e cimamanda andici ma iniziamo con ordine prima di iniziare con le letture di maggio vi invito a scrivervi sul canale ad attivare la campanella per rimanere sempre attivi ed aggiornati sui contenuti del canale e non perdervi nessun mio video vi ricordo anche che nell'info box vi lascio tutti i link amazon affiliati dei libri che vi mostro così in modo tale che se volete acquistarne qualcuno voi non spenderete un euro di più mentre io guadagnerò una piccola percentuale sul vostro acquisto in modo tale da mandare avanti la baracca diciamo così bene possiamo iniziare bene come vi dicevo nell'intro ho iniziato maggio con una piccola collaborazione di un giovane scrittore emergente ora nel momento in cui si accettano questo tipo di collaborazione si sa che al 50 per cento ci può essere la possibilità che il libro non piaccia però sono convinta che comunque nel grande mercato dell'editoria va comunque dato una mano a questi giovani scrittori perché se non vediamo noi che siamo diciamo tra virgolette influencer alla fine difficilmente riescono ad emergere detto ciò sto parlando del libro giorni di un presente corrosivo di andrea scaricamazza questo baldo giovine si è messo alla prova con un romanzo estremamente realista a tratti molto cinico e per quanto mi riguarda misogeno in cui viene presentemente criticata la nostra società della performance il romanzo narra la storia di flavio un quarantenne che si trova all'improvviso senza lavoro e che soltanto grazie alla mano di don carlo giovane prete che non sentenzia mai e soprattutto non si mette a giudicare il comportamento di flavio e anzi è sempre pronto a tendergli una mano tant'è vero che molto spesso gli trova tutta una serie di lavoretti per poterlo comunque aiutare e dell'amico nico riusciranno comunque a trovare un suo equilibrio a fare da sfondo ci sono dei meravigliosi scorci di roma poetica e maestosa al tempo stesso ma anche una roma invasa da turisti e ragazzini ubriachi giorni di un presente corrosivo quindi è una lettura profondamente introspettiva che però ha messo a dura prova le mie capacità di riflessioni non tanto per lo stile di scrittura perché molto fluido quanto piuttosto per la presenza di un personaggio flavio che un po' come nei libri di bucoschi è profondamente cinico e misantropo e anche se nel momento in cui lascia da parte le sue delusioni riesce a dare il meglio di sé e a scoprire un lato profondamente sensibile anche perché lui quando appunto mette da parte questi sui aspetti piuttosto critici si diletta a scrivere poesie a pagamento. Flavio quindi è un personaggio sempre in bilico tra il sogno e la realtà e questo mi ha profondamente sbilanciato perché se da un lato comunque Flavio sogna di diventare un grande scrittore quindi vorrebbe perseguire questa strada dall'altro comunque vede comunque una realtà in cui la società non fa altro che renderci schiavi attraverso una folle rincorsa a ideali di certezza che non fanno altro che annientare l'anima umana. A fare poi da contraltare al personaggio di Flavio vi è poi via appunto Don Carlo questo bellissimo personaggio che è sempre pronto a dare una mano a chi ne ha bisogno e laddove ce n'è bisogno e con la sua incrollabile fede in dio cerca sempre di portare tra virgolette sulla retta via il nostro Flavio che però è un miscredente. Purtroppo come vi dicevo questo libro è stato una delusione non tanto per le tematico per lo stile perché come avete visto comunque è abbastanza interessante quanto piuttosto per il pesante linguaggio che lo caratterizza infatti è un libro pieno di bestemmie torpiloqui ora io non sono una persona che va per il sottile anche se ci sono riferimenti sessuali ci posso anche passare sopra però il fatto che sia pesantemente misantropo quindi che vede le donne come oggetti sessuali e appunto ci siano pesanti bestemmie e torpiloqui a me sinceramente non piace ma questo è comunque un mio gusto personale ciò non toglie che ad alcune persone questo tipo di linguaggio bucoschiano possa piacere e poi sicuramente a contribuire alla mia bocciatura è stato anche il fatto che si tratta comunque di una narrazione che per quanto lineare somiglia più ad un tacuino che ad un vero e proprio romanzo infatti abbiamo abbiamo sì una narrazione lineare ma fatta ad episodi e questo sicuramente a me ha disorientato non poco tirando quindi le somme direi che lo consiglio soprattutto a chi è amante dello stile bucoschiano altrimenti è meglio lasciar perdere per cercare di tirarmi su e soprattutto per smaltire la mia pila della vergogna ho pescato dalla pila Kim di Rudyard Kipling la mia pronuncia è orribile lo so diciamo che nella descrizione del romanzo si parlava di un romanzo di spionaggio ora io mi aspettavo un romanzo bello avventuroso simpatico pieno di azione invece no altra mezza delusione perché si è trattato piuttosto di un romanzo di tra virgolette formazione e ricerca di se stesso piuttosto che di spionaggio al centro della trama abbiamo la storia di Kim Bad O'Hara detto Kim l'amico di tutti di tutto il mondo che è per metà britannico da parte di padre per metà indiano ed è troppo bianco per essere un indiano è troppo povero per essere un bianco e quindi vive come la vagabondo per le strade di Lahore in India improvvisamente nella sua vita si affaccia un lama tibetano alla ricerca del fiume della freccia in cui potersi purificare e liberare così definitivamente dalla ruota delle cose Kim Bad O'Hara quindi decide di seguire il lama tibetano anche perché la sua tutrice gli aveva pronosticato che aveva incontrato un toro rosso in campo verde e così inizia la doppia ricerca sia del fiume che del toro in campo verde e tra una serie di avventure ed un'altra la storia di Kimball si intreccerà con quella del grande gioco così chiamato questo intreccio di spie e attacchi e attacchi che avvenivano nel XIX secolo tra i russi e i britannici nell'Asia centrale e lo stesso Kimball per una serie di circostanze si troverà invischiato anche lui in questo grande gioco grazie a personaggi insospettabili quali il venditore di cavalli Mamou Bali. La narrazione prosegue in un alternarsi di scenari e personaggi che offrono quindi un discorso sull'India del XVIII secolo crogiolo di culture e religioni differenti e sicuramente per questi paesaggi e per questi personaggi sicuramente faranno molto piacere agli appassionati della cultura indiana soprattutto appassionati buddhisti e induisti perché Kipling che tra l'altro è nata a Bombay e vissuto diversi anni in India dimostra appunto di avere buona conoscenza di questi elementi quindi come si può notare il libro non ha una vera e propria trama perché il fulcro del libro è la ricerca spirituale per quanto riguarda il lama tibetano e della propria identità per quanto riguarda Kim. Per questo motivo le due ricerche sono destinate a coincidere. Il percorso lungo e articolato sicuramente può disorientare un lettore non abituato a un contesto multiculturale come era quello dell'India dell'epoca perché nel corso del pellegrinaggio diciamo così si incontrano tutta una serie di soggetti che fanno presagire soltanto di sfuggita tutta una serie di elementi che contraddistinguono il multiculturalismo e la multietnicità che caratterizzava l'India dell'epoca. In questo grande viaggio poi si fa la conoscenza di un'altra figura paterna per quanto riguarda Kim che è appunto il venditore di cavalli afghano Mahbub Ali, grande protagonista del grande gioco in cui si vedono spie britanniche contrapposte a quelle russe, mettendo così in rilevanza il grande gioco a cui Kim verrà istruito nel corso della narrazione. Elemento che sta a simboleggiare il predominio dell'Occidente sui coloni che è tipica del periodo vittoriano ma che oggi risulta decisamente sgradevole e va comunque a pregiudicare la bellezza dei paesaggi indiani. In ogni caso per quanto possa essere pesante e disorientante, diciamo che Kim sicuramente merita una possibilità di lettura soprattutto per i ricchi paesaggi indiani che ci propone, ma soprattutto per la bellissima figura di Mahbub Ali. Passiamo poi al terzo libro che ho letto a maggio, questa volta mentre ero in viaggio verso Bari per accompagnare la mia sorellina a fare una terapia al policlinico e sto parlando dell'Occhio del lupo di Daniel Pennac, un piccolo libricino dal sapore infantile che però ha tanto da dirci anche e soprattutto a noi adulti. Si tratta di una storia di un lupo proveniente dalla fredda e lontana Alaska e di un ragazzino che proviene invece dalla calda Africa, di cui porta il nome perché ha perso il proprio durante una notte in cui la guerra è imperversata nel suo villaggio. Il lupo e il ragazzino, uno dentro le sbarre, dentro una gabbia, l'altro al di fuori, ma entrambi segnati da un passato doloroso. Il ragazzino invece, all'apparenza sano, si porta dietro un bagaglio di sofferenze inumane. Infatti, abbandonato fin da piccolo, viene poi riabbandonato, anzi per la precisione viene venduto da un mercante a cui la madre lo va affidato da piccolo e cominciano quindi una serie di peregrinazioni che lo portano poi nell'Africa pluviale, dove troverà finalmente una famiglia che è disposta dagli amore, composta da papà e mamma Mbia. Però questi, a causa della desertificazione, sono costretti a venire in Europa, nell'altro mondo per cercare lavoro. Così il padre di Africa trova il posto di lavoro presso lo zoo dove appunto è rinchiuso il lupo. Ed è così che quindi il ragazzino si pone davanti alla gabbia tutti i giorni e, per solidarietà nei confronti del lupo, chiude anche lui un occhio cercando di condividere quanto più possibile con lui. Pennac quindi ci propone due soggetti che sono accomunati da una grande tristezza, da un'unica grande tristezza, che è appunto la solitudine. Infatti il lupo è costretto a separarsi dal suo branco per difenderlo dall'attacco dell'uomo, mentre il ragazzino Africa ha perso i suoi genitori e cresce con un vuoto immenso che cerca di colmare raccontando storie fantastiche davanti al fuoco ai suoi vari amici. L'occhio del lupo parla di amicizia, fratellanza e natura, ma soprattutto ha lo scopo di sensibilizzare il lettore, invitandolo ad andare oltre le apparenze, perché ciò che non è consueto non è qualcosa di negativo, anzi al contrario, ci permette di scoprire un intero universo dietro ciò che non è consueto. E questo pennac lo fa attraverso una scrittura molto semplice, quasi infantile, che gli permette di dire le cose senza alcun filtro. Quindi l'occhio del lupo è una storia molto tenera, ma allo stesso tempo un racconto che ci invita a tenere in considerazione che si può uscire da un momento difficile se abbiamo qualcuno accanto che ci vuole bene e ci sta accanto. Dopo questo breve racconto purtroppo ho avuto un bruttissimo raffreddore e ho rischiato seriamente di andare in blocco del lettore, perché io quando mi amalo praticamente sono una larva umana. E quindi siccome avevo sugli reader il romanzo di Murakami Dance Dance Dance, ho deciso di buttarmi a capofitto in questo mondo rarefatto di Murakami. Allora, scritto nel 1988, Dance 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 è la quarta parte di un ciclo di romanzi chiamato Trilogia del Sorcio o del Ratto, di cui fanno parte Ascolta la canzone del vento e Flipper 1973, entrambi contenuti nel volume Vento in Flipper e nel segno della pecora. All'interno del romanzo ci sono diversi riferimenti a questi romanzi precedenti, però può essere benissimo letto da chi non ha letto questi romanzi. Nel mondo grigio e monotono di un giornalista freelance insoddisfatto dal proprio lavoro, che definisce come spalare la neve, un giorno si affaccia uno spiraglio di luce attraverso un sogno. In questo sogno lui sente la voce di una donna che piange e lo richiama all'hotel del delfino. Si tratta di una donna che lo aveva accompagnato quattro anni prima nella ricerca della famosa pecora dalla stella sul dorso e decide quindi di ritornare all'hotel del delfino per cercare questa donna. Ma all'improvviso, nel momento in cui ritorna a Sapporo, qualcosa di inaspettato la tende. Infatti al posto dello sgangherato hotel del delfino che si ricordava, è sorto ora uno ultramoderno e super lussuoso, dove all'ingresso ci sono delle receptionist in taillère con sorrisiti facciata che sono pronti ad accogliere i clienti. E del vecchio hotel delfino questo nuovo conserva soltanto il nome e qualche vecchia foto nella hall. Il nostro protagonista comunque deciderà di rimanere al Dolphin Hotel, anche perché è rimasto piacevolmente sorpreso da una delle receptionist, Yumi Yoshi, con cui tra l'altro condividerà un'esperienza piuttosto bizzarra. Cioè una parte dell'hotel del delfino si trasforma improvvisamente in un lungo, buio e freddo corridoio in cui abita l'uomo pecora, che sostiene di poterlo connettere a tutto a patto che egli non smetta mai di danzare. Questo è soltanto l'inizio di una serie di eventi bizzarri e, per non parlare, per non dire strani, che coinvolgeranno il nostro protagonista insieme ad una ragazzina, Yuki, che in giapponese significa pioggia, che è molto introversa e dotata di poteri paranormali, che però utilizza la musica come via di fuga dal mondo e che lo porterà a sbrogliare tutta una serie di misteri che coinvolgono un suo vecchio compagno delle medie, l'attore famoso Gotanda, che però è insoddisfatto della propria vita, fatta di ostentazione del lusso ma sostanzialmente vuota e soprattutto lo porterà ad una bizzarra vacanza hawaiiana dove, tra una penna colata ed un'altra, farà la scoperta di sei diversi scheletri. Da questo momento in poi, quindi, per il nostro giornalista, la ricerca di una connessione tra tutti questi eventi diventerà una vera e propria ricerca di una nuova vita. Il romanzo si evolve con la ricerca da parte del nostro protagonista, che è anche la voce narrante della storia, delle varie connessioni tra le varie vicende che gli accadono, senza però lasciare nessun tipo di indizio sul loro senso. Del resto si tratta di una danza necessaria, un movimento centrifugo in cui più si cerca di far coincidere e collegare gli eventi e più questi collegamenti si spezzano. Ma del resto la danza è data proprio da questa impossibilità di collegamento, perché danzare significa fondamentalmente reagire nei confronti dei cambiamenti, in questo caso simboleggiato dal cambiamento del Dolphin Hotel. E quindi danzare significa fondamentalmente cercare di dare un senso all'esistenza nel tentativo di sfuggire a quel mondo buio abitato dalle ombre. Si tratta quindi di un percorso piuttosto tortuoso in cui il nostro protagonista entrerà ed uscirà dalla realtà in situazioni che soltanto Murakami riesce a costruire e disorientando il lettore su cosa sia reale e cosa invece non lo sia. Il libro scritto dal punto di vista del protagonista ci fa affezionare immediatamente a lui, anche perché ci rivela molto di sé, anche se nella vita lui preferisce rivelare poco di se stesso. Però mano a mano che si va avanti nella lettura, a prevalere non è più il punto di vista del protagonista, ma le varie storie dei personaggi che gli incontra. E saranno proprio questi incontri che faranno sì che il personaggio evolverà. E passando da essere un uomo che vive sulla luna ed è privo di valori, a essere un uomo che è profondamente legato alla realtà e anzi vuole ammettere egli stesso di non voler rimanere da solo. E questa meravigliosa evoluzione avviene in modo piuttosto lento. Del resto qui a prevalere non è la trama e la storia, quanto piuttosto la caratterizzazione dei personaggi che porteranno appunto il nostro protagonista a una vera e propria trasformazione. Si può quasi dire che il fulcro del romanzo sia proprio il collegamento con gli altri. Altre tematiche presenti nel romanzo sono sicuramente la solitudine e la ricerca interiore, tematiche tanto care a Murakami, che qui vengono esasperate. Infatti anche qui ritroviamo la presenza di un protagonista piuttosto riservato, letteralmente chiuso nei confronti del mondo esterno e quasi privo di voglia di vivere. Altro elemento che contraddistingue la narrazione di Murakami, che è presente anche in questo libro, è sicuramente l'elemento surreale, che si va a inserire all'interno di una realtà quotidiana così realistica da essere quasi noiosa. Nello specifico l'elemento magico in Dance 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 si esprime sotto forma di un personaggio, l'uomo pecora, che appare nel sedicesimo piano dell'hotel del delfino con il suo potente messaggio di speranza, invitandoci a non farci mai sfuggire ciò che di bello ha da offrirci la vita, ma soprattutto a continuare a danzare sulle note della nostra esistenza, qualunque cosa accada. Ultimo, ma non per importanza, elemento presente in Dance 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 è sicuramente la musica, infatti ogni passaggio, come una scena, ha la sua colonna sonora e vi segnala in modo particolare l'amore blu di Paul Moria, che contraddistingue il momento cruciale di tutto il romanzo. Per quanto riguarda lo stile di scrittura, possiamo sicuramente notare una scrittura piuttosto lenta, come se si stesse preparando minuziosamente un piatto orientale, però nonostante tutto non ci si annoia mai, infatti nonostante comunque siano presenti le descrizioni minuziose della quotidianità del nostro protagonista, con la sua solita colazione al Dawkins Donuts, con le sue due ciampelle e i due caffè, e nonostante la descrizione minuziosa delle sue giornate inconcludenti, il lettore viene sempre impogliato ad andare avanti, anche perché tutto questo ci aiuta a capire l'importanza della danza, di quello scossone che è fondamentale per riacquisire il controllo sulla nostra esistenza. Diciamo che nonostante Dance 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 mi ha fatto provare un uragano di emozioni, e sia stato sicuramente un buon libro, non lo ritengo comunque uno dei migliori Murakami, mi dispiace per chi lo considera un grande successo, ma per me non lo è, semplicemente perché lo trovo la copia sbiadita di uno di quei libri che io ho amato alla follia, con cui io mi sono innamorata di Murakami, cioè l'uccello che girava le viti del mondo, che se non sbaglio in un altro video vi ho anche consigliato, infatti leggendo più o meno qualche informazione su internet ho letto appunto che l'uccello che girava le viti del mondo sostanzialmente è la conclusione morale di Dance Dance Dance, e quindi ecco perché sinceramente sì, lo consiglio, ma con riserva. Infine, l'ultimo giorno di maggio l'ho dedicato alla lettura di questo piccolo pamphlet sul femminismo, tappa del mio GDL attraverso le donne di maggio, ossia dovremmo essere tutti femministi di Cimamandangozi Adici. Non mi soffermerò a lungo a parlarne perché c'è già caricata sul canale la live di discussione che ho tenuto su Instagram e che vi allegherò nell'info box. Vi basta sapere che si tratta di un adattamento di un discorso che la Dici ha tenuto in una conferenza, la TEDx, incentrata appunto sulle problematiche di cosa significa essere femministi al giorno d'oggi. In particolare la Dici parte dal riformulare il concetto di femminismo fino ad arrivare a richiamare la nostra attenzione sull'educazione femminile e in modo particolare a ripensare all'educazione di genere che abbiamo impartito fino ad ora, per andare poi a riprogettare la società del futuro. In particolare la Dici si rivolge soprattutto a coloro che ritengono che ormai sia superfluo parlare di femminismo perché siamo arrivati ad una società in cui donne e uomini hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. In realtà non è proprio così, infatti se guardiamo la società in modo più attento notiamo subito che innanzitutto ci sono poche donne ai posti di comando e in secondo luogo le donne vengono ancora oggi discriminate, soprattutto se pensiamo ad esempio che a parità di lavoro le donne vengono pagate di meno oppure se a parità di competenze il datore di lavoro tende a scegliere quasi sempre un uomo perché la donna potrebbe rimanere incinta. Dobbiamo quindi riconoscere che abbiamo un problema di genere, che quindi il genere è un problema e andare poi a mettere in discussione questo problema rimettendo in discussione i nostri modelli di comportamento e i modelli sociali in modo tale da andare a educare le nuove generazioni a pensare a se stessi al di là comunque del genere di appartenenza e soltanto in questo modo si potrà andare a porre le basi per una società che sia migliore. Bene, queste sono state le letture che mi hanno accompagnato nel mese di maggio. Come avete visto sono letture non numerose ma sicuramente di alto profilo, nonostante qualche delusione. Fatemi sapere invece voi nei commenti cosa avete letto e cosa pensate, se avete letto queste letture e cosa ne pensate, sono curiosa di sapere il vostro parere. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!